Ringrazio fin d'ora delle correzioni che avrò da parte vostra, alla fine del mio discorso, che cercherò di contenere in un'ora, anche se non sarà semplice, data la complessità dei problemi che si attraverseranno. Inizio da questa immagine, questa immagine tratta dal libro più riccamente illustrato di tutto il Quattrocento, un incunabolo dunque, cioè la cronaca di Norimberga, 1493. Tra le altre cose, la cronaca di Norimberga contiene delle vignette che rappresentano città. Questa, per esempio, è Genova, Janua, Giano, la Bifronte. Ho scelto questa, che non è la più significativa dal punto di vista che a me interessa sottolineare, perché all'inizio, mettiamola così molto lievemente, all'inizio soggetto e oggetto non si distinguono e siamo ancora nel Quattrocento, alla fine del Quattrocento. Tant'è vero che nella nostra lingua c'è un'espressione che non ho trovato nelle altre lingue europee, pur cercandola, e che noi, come dire, assumiamo oggi nel suo senso oleografico, deteriore, ma che è molto significativa. Da noi si dice ancora che di una cittadina, di una piccola città, che è ridente. Le città da noi ridono e può sembrare strano. Può sembrare strano, ma non era strano sicuramente alla fine del Quattrocento. È perfettamente visibile anche su questa vignetta vedere come gli edifici di cui le città si compongono, e ripeto, avrei potuto scegliere di molto più evidenti da questo punto di vista, abbiano un'espressione umana. Per dirlo in termini molto semplici, non abbiano ancora una facciata, ma hanno una vera e propria faccia, un'espressione. D'altra parte, ancora alla fine del Cinquecento, a Galleria delle Carte Vaticane, se si guarda con attenzione i ritratti di città che sono disposti, dipinti lungo le mura del corridoio, si vedrà esattamente la stessa cosa, e siamo alla fine del Cinquecento. E d'altra parte ancora, esattamente come noi, da piccoli, almeno io, ma sicuramente non l'unico, abbiamo appreso a disegnare le abitazioni. Un quadrato, sormontato da un triangolo, che era il tetto, e poi due finestre lotonde, che erano gli occhi, e un'apertura inferiore, che era la bocca. Soggetto e oggetto non si distinguono ancora nel Quattrocento, Alla fine del Quattrocento. Mi viene da dire, nel tentativo di humor, che le città erano molto più intelligenti di adesso, da questo punto di vista. Ma le cose cambiano bruscamente. La trinità della cappella a Brancacci, Masaccio, inizio del Quattrocento, affresco salvato, come sapete, da Giorgio Vasari, e non mi dilungo su questo. Ma mi interessa invece far notare alcune cose all'interno di questo affresco, che è la prima pittura costruita secondo il canone della prospettiva moderna. In realtà questa pittura è, o almeno interessante, come anche catalogo degli sguardi, delle espressioni. In questo caso si vede l'espressione molto umana della moglie, del committente, inginocchiata accanto a San Gioacchino che sta guardando la croce, il corpo di Cristo sulla croce. Questa è l'espressione di Maria. Di nuovo uno sguardo diverso. Un'espressione la foto non prende ed è un peccato, è il caso di dirlo, la mano di Maria che è disposta quasi ad invitare congiunta con lo sguardo lo spettatore a entrare all'interno della rappresentazione. È proprio un segno di invito ad entrare. E faccio vedere questi sguardi perché lo sguardo straordinario è questo. È lo sguardo di Dio che sormonta tutta la rappresentazione e da quello che ho potuto capire è davvero il primo sguardo prospettico moderno. È a fuoco fisso e se non temessi di come dire di 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 essere eccessivo direi che è lo sguardo non è uno sguardo che non sia uno sguardo intelligente. Proprio perché è uno sguardo a fuoco fisso. Uno sguardo completamente diverso dagli sguardi umani di tutti gli altri componenti della rappresentazione. Ora sul tema della prospettiva che è centrale nel discorso che ho cominciato a fare sul tema della prospettiva non vi annoierò con ciò che è già stato scritto e detto se non per sottolineare alcune questioni. È il portico degli innocenti. Ora io non illustrerò il significato di questa struttura architettonica anche se vi ricorderò permettete che io vi ricordi una definizione di Michelucci di questo portico e va bene certo che Brunelleschi l'ha concepito e costruito in questa maniera doveva costruire qualcosa per far giocare i bambini e questo è dal mio punto di vista e nel mio linguaggio questa struttura è esattamente il luogo dove il luogo si trasforma in spazio e più tempo passa io confesso che più tempo passa più mi riesce difficile come dire non non vedere in questa struttura il dispositivo più significativo dell'intera modernità nella sua estrema semplicità nella sua micidiale capacità di riduzione della realtà ma qui sotto per esempio nasce la catena di montaggio quando Taylor il 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 teorico di Ford all'inizio del novecento detta i canoni della produzione moderna di massa parlerà di un operaio che deve comportarsi aperte virgolette come un gorilla maestrato nel senso che potrà fare pochissime mosse ed è esattamente come sapete quello che succede quando il trucco prospettico la prospettiva artificiale come la chiamava Panofsky per chi penetri all'interno del portico scatta il trucco si legge sull'immobilità del soggetto che esattamente deve collocarsi è costretto a collocarsi se vuole che il trucco riesca nella posizione da cui la foto è stata scattata e attenzione deve avere esattamente lo stesso sguardo di Dio nella fresco Brancacci uno sguardo che deve obbedire a tre condizioni deve essere cioè continuo omogeneo e isotropico continuo significa che non può arrestarsi cammin facendo lo sguardo omogeneo che deve essere sempre lo stesso isotropico che deve essere puntato tutto nella stessa direzione in un'unica direzione così stando le cose se la prescrizione viene adimpiuta la prescrizione visiva viene adimpiuta e il soggetto sta fermo accade quello che non dovrebbe accadere cioè il trucco scatta e attenzione con buona pace di Burckhardt che ha inventato il termine rinascimento la cultura classica crolla perché il quinto teorema di Euclide è assolutamente fatto fuori da ciò che è possibile qui vedere le rette parallele del pavimento prolungate all'infinito cioè in direzione del danishing point del punto di fuga che corrisponde al centro della finestra si toccano quando Burckhardt inventò i termini rinascimento intendeva esattamente il contrario intendeva dire la rinascita della cultura classica in questo caso la cultura classica è assolutamente sprofondata nel suo contrario la cosa straordinaria è che ci vorranno più di quattro secoli e mezzo prima che i matematici abbiano il coraggio di prendere atto di tutto ciò e di pensare che altre geometrie diverse da quelle equilidee fossero possibili e la cosa straordinaria è che questo dispositivo che ripeto è il dispositivo fondamentale di tutta la modernità e su questo dispositivo che si costruisce l'interna modernità questo dispositivo ancora influenza enormemente il funzionamento odienno del mondo dico soltanto un esempio per rapidità perché oggi non c'è uno stato in grado di mettere a punto o concepire soltanto una politica minimamente decente funzionale efficace nei confronti dei flussi migratori la risposta sta esattamente nella immobilità che il soggetto deve avere se si vuole che il trucco dello spazio possa scattare uno dei presupposti fondamentali dunque della modernità che qui sotto nasce che qui si impone come condizione al contorno direbbero i fisici è l'immobilità del soggetto statico nell'Orlando furioso significa è un sostantivo e significa ostaggio e qui nasce il soggetto statico moderno proprio perché la struttura dello stato moderno è spaziale e nasce qui sotto non c'è uno studio da quel poco che conosco e conosco davvero poco ma non sono ancora riusciti a trovare per esempio uno studio che ricostruisca la diffusione del modello prospettico attraverso la moltiplicazione delle rappresentazioni prospettiche artistiche naturalmente che partendo da questo dispositivo abbiano poi attraverso i quadri le architetture le scenografie teatrali importantissime abbiano abbiano poi costruito la maglia spaziale o della fruizione in termini spaziali costruzione in termini spaziali della modernità ma tutti ricordiamo come ancora più di tre secoli dopo la costruzione di questa struttura 1412 1427 quando lo zar di tutte le russie vorrà mostrare all'Europa che anche la Russia se vuole è europea si farà costruire la sua città San Pietroburgo e la prima cosa che chiederà di costruire agli artisti italiani richiamati sarà una grande prospettiva la marca della modernità della città e dunque della della Russia stessa lo spazio che esattamente qui sotto nasce e allora l'immobilità del soggetto è stata notata per primo come sapete da un da un signore russo di cui adesso un genio russo matematico di cui di cui adesso in questo momento ma mi verrà subito mi sfugge il nome sì esattamente che faceva appunto notare come perché il trucco funzionasse il soggetto dovesse essere immobilizzato come fosse stato avvelenato col curaro così dice lui paragonando questo dispositivo con invece la relazione che esiste tra lo spettatore e l'icona bizantina Pavel Fronansky questo sostiene ma guardate che qui sotto in realtà altre condizioni sono necessarie oltre l'immobilità per esempio se si vuole che il trucco riesca e si può fare facilmente l'esperimento non si può stare in più di due allora secondo me non è esagerato assumere questo dispositivo come il dispositivo attraeus il quale per parlare in termini della sociologia classica europea lo dico in italiano la comunità diventa società perché bisogna essere singoli perché il trucco riesca quel trucco che attenzione quella della convergenza verso il punto di fuga di rette che invece tutto il resto del corpo e dei sensi dicono e continuano a fermare essere parallele quel trucco che ti pone di fronte ad un problema fino ad allora inedito nella cultura europea se credere cioè alla vista o se credere agli altri sensi conoscete meglio di me la risposta che sotto questo portico darà Leon Battista Alberti che ancora oggi è la nostra l'occhio alato di Leon Battista Alberti che qui sotto nasce perché Leon Battista Alberti cambia l'impresa oggi si chiama drone è esattamente quella cosa concepita intuita da Leon Battista Alberti sotto questo portico un organo funzionale che si sgancia si stacca completamente dal corpo e va per conto ma qui allora davvero si trova ciò che Weber ha cercato senza precisare vale a dire quella distinzione tra la comunità e la società dove la differenza sta esattamente nella preliminare riduzione all'individualità del soggetto che poi si ricostituisce in un insieme quella individualità del soggetto che a livello di comunità cioè prima di questa struttura assolutamente era molto difficile pensare soprattutto praticare si potrebbe continuare da questo punto di vista però mi interessa farvi notare ancora altre cose l'origine di quel modello è questa cioè dove Brunelleschi ha visto quel modello ormai gli storici dell'arte hanno abbastanza appurato la cosa quel modello è nient'altro che la traduzione in orizzontale per così dire di ciò che noi chiamiamo proiezione cioè quel dispositivo messo a punto da Ptolomeo nel secondo secolo dopo Cristo che serve a sottrarre una dimensione alla terra e a trasformare il globo terrestre in una tavola cioè il dispositivo la tecnica o l'arte se volete con cui la sfera terrestre e il globo viene trasformata in un numero infinito illimitato di mappe è un problema enorme questo dal punto di vista matematico cioè topologico perché la struttura della sfera e la struttura della tavola sono irriducibili in un'altra come i matematici spiegano sono irriducibili perché la tavola la superficie è bidimensionale e si compone di linee che sono aperte i limiti della tavola sono aperti e mentre la sfera si compone di linee chiuse questo significa che la sfera è tecnicamente cioè matematicamente una sfera è illimitata cioè non è possibile definire i limiti di una sfera perché non è possibile definire i limiti di una sfera perché io prendo una sfera ce l'ho in mano la guardo vedo molto bene il limite superiore ma basta che io manipoli lievemente la sfera cioè la faccia girare un minimo e quella che a me di un millimetro è quella che a me sembrava la linea superiore cioè il limite superiore della sfera si è cambiato la sfera si compone di linee che sono chiuse e però compone una struttura che è illimitata la tavola al contrario si compone di linee aperte e una tavola si può girare capovolgere le linee restano sempre quelle i confini sono molto netti e sono molto evidenti e restano tali di qui l'irriducibilità in termini matematico topologici delle due strutture cioè il fatto che non è possibile per qualsiasi sforzo si faccia trasformare compiutamente perfettamente una struttura sferica in un numero illimitato di tavole si può fare naturalmente ma qualcosa si perde in questa trasformazione io credo che quello che si perda si chiami lo dico perché magari poi avremo il tempo di fare qualche di rispondere a qualche domanda spero quello che si perde secondo me in questa trasformazione è qualcosa che noi in mancanza d'altro definiamo con il termine di sacro per me la sacralità è esattamente ciò che sfugge in questa operazione ma questo è il modello da cui tutta l'operazione dipende questo è il primo schema che Tolomeo secondo il secolo dopo Cristo Tolomeo era un africano cioè un egiziano scriveva in greco e ha abitato la città più fantastica mai esistita cioè Alessandria d'Egitto al tempo del massimo splendore dell'impero romano cioè una città dove tutti le credenze le dottrine le fedi i modelli gli schemi si incontravano e si fertilizzavano a vicendo e questo è lo schema che lui insegna il primo dei tre schemi che lui in un testo che noi chiamiamo oggi geografia che scompare dall'orizzonte della cultura latina con il crollo dell'impero romano e che torna in Italia per la precisione a Firenze esattamente all'inizio del 1400 e viene subito tradotto prima in latino e poi in in volgare e molti storici dell'arte quasi tutti sono convinti che la prospettiva il portico dell'innocente sia la traduzione sul piano orizzontale di questo schema che invece evidentemente lavora in verticale dove attenzione la realtà diventa esattamente ciò che la mappa contiene ma ciò che la mappa contiene dipende da due cose che non compaiono sulla mappa se non in forma parziale una soltanto dipendono dallo spazio il regolamentum che sta fuori dalla mappa la scala cioè l'idea che l'intera faccia della terra sia sussumibile da parte di una misura metrica lineare standard dunque l'idea che la relazione decisiva per il funzionamento del mondo dipenda dalla distanza metricamente definibile tra le cose questo è lo spazio formidabile non esisteva prima sapete non esisteva prima questa idea prima di questo prima del ritorno all'inizio alla fine del 1300 di Tolomeo in nell'ambito occidentale torno da Costantinopoli questa idea non esisteva basta leggere il milione di Marco Polo per avere la precisissima descrizione di un mondo senza spazio dove le cose non hanno estensione cioè non puoi misurarle con il metro ma le cose invece hanno durata e il metro della durata delle cose è il viandante il soggetto che le pratica che le attraversa che le percorre è così che funziona il milione di Marco Polo dice Marco Polo quindi si esce alla città di Cambaluc dopo la città se si prende verso Aquilone le direzioni non sono astratte nord sud est ovest le direzioni sono indicate dai venti qualcosa di immateriale ma non di astratto di molto preciso anzi se si prende verso Aquilone usciti dalla città c'è un deserto il deserto dura un giorno e mezzo e dopo il deserto c'è la foresta la foresta dura due giorni e così via cioè il pellegrino il viandante e il metro cioè misura la faccia della terra con i giorni di cui la sua esistenza si compone ma qui no qui la misura diventa il regolamentum cioè lo spazio ma soprattutto tutto ciò dipende da un punto in alto che non è rappresentabile ma che regge tutta la costruzione in termini ci si direbbe che è quello il livello inviolabile cioè ciò che è quello che non appare ma che governa e la realtà diventa esattamente ciò che ricade che si riesce a far ricadere all'interno di quel quadrangolo Foucault direbbe quadrangolo intemporale riprendendo Roussel dove appunto non lo sanno ma stanno esattamente definendo questo dispositivo non lo sanno né Roussel né Foucault dove appunto diceva Ramon Roussel prima di Foucault il ferro da stiro e l'ombrello diventano la stessa cosa certo cioè subiscono gli stessi procedimenti di oggettivazione questo è il frontespizio del testo che fonda lo stato moderno il Leviatano di Thomas Hobbes 1651 un'epoca in cui i frontespizi dei libri non erano erano delle vere e proprie sintesi grafiche del contenuto ed è non c'è bisogno che insista sul fatto che la copertina il frontespizio del testo nell'immagine del Leviatano discenda direttamente dal modello della proiezione tolemaica gli stessi simboli del potere terreno la spada e il pastorale puntano ambedue in direzione di un punto che non si può rappresentare così come il corpo del Leviatano è composto sembra semplicemente villoso ma in realtà guardar bene non so come ingrandire qui temo di far disastri se ci provo ma il corpo del Leviatano potete controllare facilmente chi fosse interessato il corpo del Leviatano è composto di che cosa? di tanti soggetti immobili fermi che sono appunto i sudditi che compongono il corpo di quella persona ficta che è lo Stato lo Stato territoriale moderno centralizzato come dire Carl Schmitt e che nasce sulla base di questo testo il quale nient'altro che non c'è tempo ma ci vorrebbe molto più tempo anche di un solo pomeriggio il quale nient'altro che la messa al lavoro avrebbe detto qualcuno dei principi che sono quelli della proiezione tolemaica basti semplicemente dire ricordare qui che Hobbes Hobbes crede che Dio abbia rivelato all'umanità soltanto un sapere la geometria ma devo confessare che tutto quello che fin qui ho detto è nato sulla base della riflessione rispetto a questa immagine anche qui non c'è bisogno che dica a voi di cosa si tratta André Marot diceva che questo quadro di Vermeer fosse la realizzazione tecnica più compiuta al mondo non so se sia vero ma quello che mi interessa è anche qui capovolgere la fortunatissima interpretazione che Svetlana Halpers ormai un quarto di secolo fa di queste immagini ha dato in quel testo molto fortunato sulla pittura olandese del seicento Svetlana Halpers interpreta questo dipinto come la prova della capacità di annessione della cartografia da parte della pittura io credo che per comprendere invece bisogna capovolgere la relazione io credo che questo quadro significhi esattamente il contrario significa esattamente la era questa l'immagine significa esattamente invece la dimostrazione di come la pittura stessa debba cedere il passo di fronte alla cartografia cioè al dispositivo tolemaico dal quale deriva il modello spaziale di funzione del mondo perché perché dico questo perché perché questo quadro tra le altre cose è la rappresentazione algoritmica della filosofia di Leibniz c'è un problema qui lo so ne sono perfettamente consapevole c'è un problema che Vermeer dipinge questo quadro quando Leibniz ha 190 anni 1666 1667 però Leibniz e c'è attenzione una relazione indiretta l'unica che sono riuscito a trovare tra Leibniz e Vermeer l'esecutore testamentario di Vermeer un signore dal nome impronunciabile Van Leuven qualcosa del genere insomma l'inventore del microscopio quindi Van Leuven Beck qualcosa del genere ma chiedo scusa a chi sappia il basso tedesco olandese meglio di me questo signore che è stato l'esecutore testamentario di Vermeer era anche molto amico di Leibniz è l'unico rapporto che sono riuscito a trovare tra i due ma la cosa sconvolgente è che questo quadro e voi sapete come Leibniz spesso ricorresse alle immagini artistiche nello spiegare il suo procedimento cognitivo ma questo quadro è davvero l'illustrazione ripeto algoritma passo per passo di ciò che Leibniz intende per conoscenza o meglio per dimostrazione delle possibilità cognitive si comincia dall'angolo in basso a a sinistra naturalmente questo quadro rappresenta la monade di Leibniz il soggetto non ci sono finestre non ci sono finestre c'è una luce ma non c'è la finestra che è la condizione tipica della situazione monadica per Leibniz e se si procede dall'angolo in basso a sinistra verso l'angolo opposto cioè verso il muro dominato dalla rappresentazione cartografica noi assistiamo con estrema immediatezza alla rappresentazione del sistema filosofico di Leibniz si parte dal fuscum subinigrum dall'angolo cioè dove è scuro quell'angolo ma si intravede qualcosa qualche forma indistinguibile ma fuscum subinigrum come il termine tecnico di cui Leibniz si serve e poi c'è la tenda la tenda qui rovesciata la tenda rovesciata sul rovescio della tenda quella tenda che a Paul Clodel sembrava venire direttamente dall'arca dell'antico testamento sul rovescio della tenda si intravedono figure qui l'Alpers ha ragione le figure che al rovescio si intravedono sul rovescio della tenda corrispondono esattamente alle figure che il pittore al centro della rappresentazione sta dipingendo però non si distinguono per Leibniz la conoscenza si divideva anzitutto in oscura e chiara la conoscenza al primo livello si distingue tra una conoscenza oscura che corrisponde esattamente al fuscum subinigrum cioè a qualcosa che è fosco in cui tu intravedi la potenzialità di alcune forme e quella è la conoscenza oscura poi c'è la conoscenza chiara nella conoscenza chiara spiega l'Alpinist tu vedi le forme e sono esattamente le forme ma non sai distinguerle ancora però sei sicuro che sono forme e sei sicuro che quelle forme corrispondano a qualcosa non sei in grado di andare avanti però però la conoscenza diventa chiara poi la conoscenza se chiara continua Leibniz e può essere confusa o distinta qui bisogna andare al pittore che sta dipingendo e sta dipingendo che cosa si vede molto bene sulla sulla tela che va riempiendo sta dipingendo la testa della ragazza si vedono molto bene le foglie di lauro che coronano la donna quella donna sappiamo perfettamente senza problemi è Clio l'iconologia del Ripa una ventina di anni prima era stata tradotta in olandese dunque è Clio la musa della fama la musa dell'oralità della storia infatti il testo che ha in mano secondo lo stesso Ripa può essere o di erodoto oppure tucilite cioè la fama e ha la tromba in mano il pittore sta dipingendo la corona di alloro sulla testa ma di di che natura è la conoscenza pittorica secondo secondo Leibniz è chiara ma confusa non è distinta e infatti qui Leibniz ancora una volta per spiegare cosa sia una conoscenza chiara ma confusa fa riferimento esattamente al pittore che nell'atto di allontanarsi dalla tela che sta dipingendo guarda il risultato del suo lavoro e si accorge che manca qualcosa ma non sa definire con precisione quel certo non so che che manca dice Leibniz certo questo accade perché il pittore quando dipinge non è in grado di definire esattamente tutte le note di cui la distinzione di ciò che sta dipingendo si compone dunque la conoscenza del pittore è chiara ma è confusa e quale sarà la conoscenza distinta invece la conoscenza distinta dice Leibniz è quella del chimico per esempio che è in grado di distillare tutti i valori nominali separandoli l'uno dall'altro di cui un qualcosa risulta composto di assegnare a ciascuna componente un preciso valore dunque la conoscenza è oscura o chiara la conoscenza e siamo all'angolo in basso e alla tenda e la conoscenza chiara a sua volta è confusa o distinta e siamo a quello del pittore poi la conoscenza chiara e distinta può essere continua Leibniz adeguata o inadeguata qual è la distinzione tra adeguata o inadeguata secondo Leibniz la conoscenza è adeguata quando non soltanto è distinta ma nel caso di cose composte dice Leibniz è perfettamente possibile distinguere tutti gli elementi di cui gli elementi di cui la cosa composta si compone e finalmente esiste un ultimo livello diciamo cognitivo per Leibniz che la conoscenza chiara distinta e adeguata noi abbiamo l'adeguamento alla conoscenza quando si saturano le condizioni della distinzione anche per gli elementi più complessi bene allora finalmente e siamo arrivati finalmente la conoscenza sarà o simbolica o intuitiva la conoscenza intuitiva dice Leibniz noi umani ce la scordiamo perché è soltanto quella di Dio cioè è una conoscenza che non ha bisogno di segni ma invece è una conoscenza che è in grado di cogliere nell'immediato la totalità dell'esistente ma questa non è data agli umani dice Leibniz gli umani anche se hanno una conoscenza adeguata al massimo sarà simbolica cioè sarà una mappa una cosa che l'Alpers non ha notato l'Alpers ha notato una cosa la strana inclinazione del collo della ragazza di Clio e non la spiega non ha notato l'Alpers che il collo della ragazza appare nella pittura quasi staccato dal busto esattamente in corrispondenza della linea nera sulla mappa che esattamente poi corre all'altezza degli occhi del pittore noi sappiamo perfettamente di che mappa si tratti è la mappa delle sette province unite del Fisher di la ventina di anni prima quella linea nera che stack decapita decolla Clio e benda gli occhi del pittore quella linea nera sulla mappa distingue che cosa distingue diciamo in termini non propriamente cartografici per meglio intendersi l'immagine dal testo che spiega l'immagine cioè sotto c'è la leggenda e sopra c'è la rappresentazione grafica diciamo che sotto c'è il significato e sopra c'è il significante ed è la stessa linea tra l'altro avrete riconosciuto nella torsione del capo della ragazza un atteggiamento ricorrente per esempio nei 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 ritratti giovanili di Cezanne conservati al MoMA di New York nei tratti femminili dove per alcuni anni Cezanne in 5 6 casi almeno esattamente riprende questo tipo di decollazione se avessi tempo cercherei di spiegare come questa sia appunto la decollazione del Battista ma e tra l'altro vi è un'analogia profonda tra Clio la musa della storia dell'oralità e Giovanni Battista colui che impone il nome alle cose ma in ogni caso né il pittore né Clio vedono niente Clio ha gli occhi visibilmente le palpebre visibilmente abbassate e sta guardando che cosa sul tavolo perché poi questa immagine dimenticavo di dire fantastica e affascina secondo me fin dall'inizio perché è il trionfo del carrelage così come la trinità di Masaccio era un trionfo di sguardi un catalogo di sguardi questa immagine era un catalogo di tavole dal pavimento al tavolo alla tenda e poi gli oggetti che sono sul tavolo che sono una scultura un drappo una carta geografica ancora o comunque qualcosa il pittore e la la ragazza non vedono nulla assolutamente nulla proprio come le monadi per Leibniz non vedono e tutta l'immagine tutta l'immagine serve esattamente a questo esattamente al rovescio di ciò che l'Alpers dice tutta l'immagine serve a mostrare come la forma suprema di conoscenza data agli uomini sia quella simbolica cioè cartografica Dio per secondo Leibniz vede il mondo secondo una proiezione cilindrica cioè all'infinito ma lui è in grado di vedere non attraverso scenografie dice Leibniz ma attraverso una unica etnografia cioè la differenza tra scenografia e etnografia qual è? Che la scenografia è nient'altro che il punto di vista che cambia la realtà cambia perché cambia il punto di vista e questo è degli umani sono gli umani che conoscono e vedono attraverso procedimenti scenografici esattamente quella varietà che la proiezione la prospettiva moderna è blocca fissa proprio impedendo che il soggetto si muova l'iconografia invece è divina cioè è l'unicità del punto di vista quell'unicità che assolutamente abolisce però il punto di vista e che fa sì che l'emblema del divino sia un grande occhio che molto prima di Bentham e molto prima eccetera eccetera del panopticon in realtà sia in grado di vedere oggi diremmo tutto e subito cioè intuitivamente c'è una possibilità di gettare un ponte tra la visione umana e quella divina certo Michel Serre uno dei primi test di Michel Serre sull'origine della geometria su Leibniz e la geometria lo spiega molto bene credo che fosse la sua tesi di dottorato certo che c'è una possibilità la possibilità è rendersi conto di come la la visione intuitiva che ripeto non è quella simbolica consista nella produzione di una serie infinita di mappe e cioè simbolica e però spiega Michel Serre queste mappe sono legate tra loro da una relazione di ricorsività cioè sono mappe di mappe segnalo che tra l'altro la mi viene in mente adesso lo dico adesso se non mi dimentico ma potrebbe essere l'argomento di una di qualche domanda tutta la maniera con la quale noi oggi cerchiamo di spiegare il funzionamento della mente passa attraverso il mapping torniamo a Leibniz cioè a Serre che interpreta Leibniz sì Leibniz pensava che fossero possibili almeno in astratto mappe di mappe cioè intersezione di mappe al cui interno al cui interno come dire il principio fosse differentemente da quello che accade su una mappa normale cioè all'interno dello spazio fosse invece l'assoluta reversibilità e relatività dei rapporti relazionali cioè in altri termini attraverso questo sistema di mappe di mappe spiega Michel Serre ciò che è soggetto diventa oggetto e viceversa i punti di vista cambiano ma allo stesso tempo restano identici l'oggetto diventa soggetto eccetera 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 e l'unica possibilità che si ha di pensare la possibilità di un ponte tra la visione simbolica e quella intuitiva che è divina e perché dice Michel Serre non lo dice ma si capisce da ciò che Michel Serre spiega perché in realtà perché in realtà il sistema di mappe che sono mappe di altre mappe è l'unica possibilità che abbiamo di pensare non più le mappe ma di pensare o di poter pensare il globo e qui che sì vabbè questa è la la il collo reciso della di Clio che è l'analogo di Giovanni Battista della decolazione del Battista ah volevo però vedere una cosa c'è il globo nel nel in Vermeer c'è il globo è fantastico no fateci caso è la mano del pittore c'è un poggio poggiabraccio vedete e poi c'è la mano ma la cosa che a me ha sorpreso è la differenza che c'è tra la rappresentazione della mano del pittore e la rappresentazione che c'è della mano di Clio che regge la tromba della fama perché la mano di Clio vedete è rappresentata con estrema delicatezza e finezza con estrema precisione guardate guardate invece come apparentemente rozza e massiva la rappresentazione della mano del pittore sembra gonfia qualcosa di non solo ma Leibniz scusate Vermeer adopta uno stratagemma di fargli impugnare il pennello in maniera tale che la porzione superiore del pennello che il pittore sta impugnando sembra quasi l'asse di rotazione terrestre infatti è inclinato e indubitabilmente la mano del pittore sta per il globo per la forma sferica esattamente come invece la mano di Clio sta per alto tanto è grande e secondo me voluta la differenza ecco qui si vede molto bene che qui ha gli occhi chiusi non sta guardando nulla ha le palpe abbassate il problema non è che cosa stia guardando e se guarda qualcosa la risposta è no indubitabilmente così come si vede anche ecco la linea nera che separa e si essendo stato invitato al macro signori e io devo ringraziare l'amica Giovanna che ha avuto l'idea ma il macro poi che mi ha invitato ho ritenuto opportuno tentare di continuare questo discorso con il riferimento all'unica artista contemporaneo che in qualche maniera ho conosciuto dal punto di vista delle mie esperienze dei miei studi d'arte e cioè Yushan 1916 e il pettine di Yushan quel pettine che diceva Yushan arrivo arrivo a tutto quello che ho detto fin qui perché per me è stata una straordinaria sorpresa potrei essere coerente circa Yushan con quanto ho appena detto e produce spazio lo dice Yushan nel 1916 che questo oggetto ready made produce produce spazio ma qual è il punto e qui non vi dico neanche cos'è l'avete riconosciuto tutti il punto è che il ready made è esattamente l'oggetto che corrisponde a quell'operazione l'unica possibile qui mi riferivo un momento fa ricordando come Michel Serres vedesse ancora nella filosofia di Leibniz la possibilità di gettare un ponte tra il simbolico l'intuitivo proprio rimettendo in discussione la relazione tra soggetto e oggetto anzi quasi tornando all'inizio della cronaca di Nolimberga mostrando come questa distinzione non fosse assolutamente plausibile d'altra parte Duchamp lo dice a una sua amica che si chiamava Dora dice che lui è anticartesiano e Cartesio dimenticavo di dirlo prima Cartesio è il filosofo che esattamente negli anni in cui Hobbes scrive Leviatano separa l'oggetto dal soggetto cioè come dire manda compimento i presupposti dello spazio moderno bullenleschiano chiamiamolo tolemaico bullenleschiano nella maniera più coerente e compiuta distinguendo la mente il soggetto dalla materia dalla resistenza eccetera non solo Duchamp dice che non è anticartesiano ma proprio sollecitato a proposito del Red Made dice a un suo conoscente James Johnson Sweetney dice che Red Made serve semplicemente per inoltrarsi in regioni alla lettera aperta in regioni che non sono più sottoposte al tempo e allo spazio allora è davvero possibile trovare un filo conduttore che arrivi a fare esattamente quello che Duchamp si augurava che i suoi Red Made servissero a fare a gettare uno sguardo diverso sulla realtà se così fosse e chiudo davvero se così fosse Duchamp proprio attraverso il Red Made sarebbe uno dei primi pensatori della globalità perché rimettere in discussione ciò che Red Made rimette in discussione se tutto quello che ho tentato oggi di dirvi appena appena un po' di senso significa esattamente fuoriuscire dal tempo e dallo spazio e essere introdotti nella realtà a cui interno oggi noi siamo conficcati senza avere più modelli grazie 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 grazie